Ciao a tutti sono Giovanni Grazzini preparatore fisico. Nel video di oggi vedremo una serie di proposte operative per l'allenamento condizionale con Vector, quindi una serie di esercizi fondamentali nell'allenamento quotidiano di ogni atleta. Con tutti gli elastici attivi la macchina reagisce fino a oltre 200 kg. Con le giuste regolazioni Vector permette varie tipologie di andature. Potendo eseguire movimenti balistici possiamo riprodurre esercizi di arresto mono e bipodalico. Secondo la stessa filosofia sarà utile proporre esercizi balistici con atterraggio in posizioni differenziate. E perché no abbinare anche un cardiofrequenzimetro per ottimizzare la fase metabolica.